Come dice Coso, è l'ultimo libro di Federico Palmaroli, ideatore delle più belle frasi di Osho, presentato a Taranto a chiusura della rassegna di incontri con l'autore Il Libro Possibile, con la BCC di San Marzano di San Giuseppe e il Comune di Taranto. Una serata all'insegna dell'ironia che è tornata sui temi della politica lasciandosi alle spalle il Covid. La fine di questo anno ci porta un po' verso la fine dell'emergenza Covid, perché poi andando indietro a ripetere le vignette degli ultimi due libri ho visto che c'era tanta roba sul Covid perché era quello che ovviamente si doveva raccontare e sono contento che non dovevo più raccontare quello perché era diventato un po' adesso anche riguardandolo insomma sembra per fortuna un'altra epoca e quindi adesso è ritornata la politica, c'è un nuovo governo, insomma si ricomincia la battaglia politica che è quello in cui mi vado a infilare più volentieri. Una chiusura del libro possibile all'insegna dunque del buon umore con lo sguardo già rivolto alla prossima edizione. Il 2022 è stato un anno intenso dal punto di vista culturale ma lo sarà anche il 2023 perché vediamo che ci sono già diversi libri che prenderanno vita nel 2023 e che noi saremo pronti a presentare qui a Taranto. Il periodo di maggiore presenza sarà sicuramente quello estivo in cui è più facile far venire nella nostra città autori nazionali ed internazionali e così sicuramente anche il 2023 ci vedrà protagonisti di una stagione culturale importante e con presentazioni di livello come è stato tutto il 2022.